benvenuti in questa nuova puntata di dipen scienza io sono zap siamo in live sia su twitch sia su spreaker ho dato un po di informazioni relative alle nostre nostri piani futuri per dipen su twitch e quindi andate a andate ad ascoltare la parte che vi siete persa e si dice persa non lo so altrimenti iscrivetevi sul nostro canale telegram dove vi teniamo sempre aggiornati oggi facciamo una live abbastanza impegnativa quindi ci proverò questa volta fare a mettere due parole in croce a fare una puntata interessante parleremo di invecchiamento e di immortalità allora è un tema abbastanza complesso che cercherò di rendervi un po più semplice e piacevole nel senso che il tema dell'invecchiamento è qualcosa che si studia in modo molto approfondito in medicina perché ci sono tante diciamo implicazioni dei sistemi di invecchiamento che portano ad alcune malattie non vi spoilerò niente poi vi spiegherò durante la puntata cercherò di non essere troppo tecnico se non mi state seguendo chiaramente ditemelo in chat che così diciamo aggiustiamo il tiro nel frattempo se qualcuno fosse così gentile da condividere il link di di speaker sul gruppo e magari di dirmi se effettivamente sto parlando con qualcuno o se non sono andato online su twitch eh sì su twitch su speaker scusate nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare anche qui cose che ho già fatto su twitch tutti quelli che si stanno abbonando al nostro canale e vi ricordo che per chi avesse amazon prime l'abbonamento è gratuito c'è una piccola guida su twitch quindi andate a vederla e per capire come si fa e ci state dando un grosso sostegno quindi vi ringraziamo oltretutto vi ripeto anche qui che stiamo per festeggiare l'anniversario di dipen e vi faremo sapere quindi tutto il piano del festeggiamento sia su telegram sia su instagram se qualcuno è su speaker mi mandi un messaggio per sapere se sono online dovrei essere online e si dovrebbe sentire tutto perché vedo il microfono che funziona quindi nel frattempo io comincerei allora la domanda di oggi di dipen scienza è perché invecchiamo la risposta è molto 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 complessa diciamo che possiamo fare risposta breve degli elementari e risposta complessa risposta breve perché le cellule si danneggiano ok risposta complessa ci arriviamo durante tutta la puntata possiamo dire però in generale che l'invecchiamento è un processo ciao pietro grazie per il messaggio è un processo abbastanza dinamico nel senso che c'è stata una forte modificazione dell'aspettativa di vita che è rimasta praticamente invariata fino alla prima rivoluzione industriale che poi ha avuto un'espansione immensa e possiamo dire che l'invecchiamento è dato sia da cause ambientali sia da fattori genetici come dire intrinseci alla nostra natura come dicevo durante la rivoluzione industriale o meglio dopo la rivoluzione industriale c'è stato un fortissimo sviluppo chiaramente sia della tecnologia che utilizziamo sia nella consapevolezza degli agenti ambientali degli inquinanti e soprattutto in questo periodo sono stati scoperti i virus sono stati scoperti, in realtà molto dopo però dopo la rivoluzione industriale sono stati scoperti i virus, i batteri e quindi chiaramente l'aspettativa di vita che è la vita massima che raggiunge il 50% dei nati è cambiata in modo drastico se prima si viveva 50 anni oggi l'aspettativa di vita sta arrivando oltre i 100 anni possiamo dire che in un certo senso è cambiata anche l'aspettativa di vita massima di una persona che prima si aggirava appunto intorno ai 70-80 anni mentre adesso è intorno ai 110 anni tutto questo si è ottenuto chiaramente grazie al miglioramento delle terapie a un miglior controllo di tutte le malattie e soprattutto di quelle che andavano ad aumentare la mortalità infantile che era veramente elevatissima e niente, quindi c'è stato un grande controllo sulle malattie che ha portato all'allungamento della vita media tutto questo ha chiaramente all'allungamento della vita media porta anche a l'aumento diciamo di incidenza di tutte quelle malattie che si verificano nei stadi finali della vita o meglio nelle fasi di vecchiaia della vita molto banalmente non so, dico roba a caso però al tempo dei romani non penso che l'Alzheimer fosse uno dei o i tumori anche per esempio non penso che fossero uno delle malattie che avevano più incidenza nella popolazione banalmente perché la gente moriva prima oggi invece gran parte delle malattie sono state diciamo o meglio c'è la possibilità di curarle più facilmente e quindi stiamo soltanto adesso approcciandoci allo studio di queste malattie che prima conoscevamo meno perché si verificano meno e quindi non erano di nostro diciamo interesse mentre adesso chiaramente la mortalità nell'anziano è prevalentemente dovuta ad alcune come dire malattie appunto tipiche della senescienza come l'Alzheimer come i tumori che in realtà stanno aumentando l'incidenza sia perché li conosciamo di più sia perché appunto la gente vive di più però ci sono tantissimi tumori anche che si verificano in periodi diciamo non durante la vecchiaia ma molto prima e quindi niente stiamo facendo questi studi per andare a migliorare ancora ulteriormente la qualità della vita quindi non mi sorprenderebbe se fra 50 anni l'aspettativa di vita non fosse più 110 anni di vita massima ma magari 130 quindi prima di spiegarvi perché le cellule invecchiano devo farvi un micro nano ripasso di biologia tipo delle elementari giuro faccio veloce e ce lo togliamo così almeno riuscite a capire tutta la puntata io però così non riesco a vedere i commenti di Twitch ok allora dobbiamo dire che le cellule sono in grado di riprodursi come sanno anche i sassi tramite due processi che sono lamitosi e lamiosi durante questo processo c'è un diciamo diciamo molto banalmente uno sdoppiamento del DNA che viene duplicato che infatti si chiama duplicazione durante questo periodo diciamo di tempo che fa parte del ciclo normale della vita di una cellula la cellula riproduce il suo DNA questo DNA nuovo entrerà a far parte di una nuova cellula in questo modo da una cellula ne otteniamo due non è proprio esattamente così perché mitosi e meiosi funzionano in modo diverso però comunque portiamoci a casa diciamo il senso della questione adesso non è che dobbiamo stare qui a fare i pignoli quindi tutte le informazioni che servono a una cellula per svilupparsi crescere e funzionare in modo ottimale sono contenute all'interno del nostro genoma del nostro DNA il nostro DNA anche qui come sanno anche i bambini è una struttura a doppia elica formata da una coppia di numerose coppie di nucleotivi e queste informazioni vengono codificate un po' come fossero diciamo le informazioni in bit di un computer no? il nostro Pietro sicuramente conoscerà meglio questo tipo di linguaggio però diciamo che il codice genetico viene poi strutturato in questa maniera tramite sequenze di nucleotidi abbiamo informazioni diverse queste informazioni vengono utilizzate per esempio per creare le proteine ma ci sono in realtà numerose sequenze di nucleotidi che non codificano per nessuna proteina anzi diciamo che il 99% del DNA non codifica per nessuna proteina sono sequenze che vengono lette per esempio sequenze satellite ci sono sequenze regolatorie quindi il DNA puramente funzionale è molto poco viceversa tutto il resto del DNA serve sostanzialmente a regolare adesso chiaramente se mi sta ascoltando qualche professore sta venendo da vomitare però è giusto per farvi capire servono a regolare l'espressione di una cellula ok quando la cellula si deve replicare si attivano degli enzimi questi enzimi prendono il DNA e ci lavorano sopra diciamo molto alla buona però questi enzimi devono sapere dove fermarsi e non è che hanno una coscienza per dire ok devo fermarmi lì no? devono avere dei segnali che gli dicono qui ti fermi no? un segnale di stop e quindi per potersi replicare la cellula oltre ad avere questi segnali di stop deve raggruppare il suo DNA formando sostanzialmente i cromosomi i cromosomi che sono coppie di 23 cromosomi nell'essere umano ci sono numeri molto diversi in natura mi sembra per esempio che il pesce rosso ne ha molto di più tipo 50 non vorrei dire una vaccata queste sono robe che avevo letto tipo da ragazzino quando mi incuriosivo di queste cose all'interno del cromosoma abbiamo un impacchettamento del DNA e al termine del cromosoma che ha una forma più o meno AX troviamo delle strutture di DNA che non sono codificanti e sostanzialmente non hanno una funzione appunto sulla produzione di qualcosa ma fungono soltanto da protezione del DNA attaccato diciamo aggregato all'interno del cromosoma e queste sequenze sono dette telomeri questa cosa è molto importante perché l'invecchiamento è dato principalmente dai telomeri e adesso vi spiego come allora i telomeri sono appunto delle sequenze di DNA che si trovano alla fine del cromosoma però non sono DNA a doppia elica sono dei DNA a singola elica che formano diciamo un prolungamento di questo DNA che deve essere duplicato ma hanno diverse funzioni una di queste è appunto quella di dare il segnale di stop alla replicazione del cromosoma quindi è come se dicessero qui il cromosoma si ferma e parlano con l'enzima che è la DNA polimerasi che serve a duplicare appunto il DNA quindi semplicemente non è che gli danno un segnale citochinico o robe strane come abbiamo visto in altre puntate ma hanno una funzione strutturale ovvero quella di raggomitolarsi essendo a singola elica possono farlo si raggomitolano questa parola è difficilissima non dovrei dirla in un podcast e in questo modo la DNA polimerasi non è in grado poi di andare a sequenziare quel tratto di DNA semplicemente perché la struttura non coincide col suo sito di legame e quindi lì diciamo si blocca la duplicazione oltre a questo i telomeri vanno sostanzialmente a controllare il ciclo cellulare delle cellule e man mano che la cellula diciamo invecchia quindi man mano che si riproduce poi una volta due volte tre volte i telomeri pian piano si accorciano questo accorciamento sta sostanzialmente alla base dell'invecchiamento questo accorciamento diciamo che può essere regolato e poi vi spiego come possiamo dire in generale che non tutte le cellule si diciamo si riproducono allo stesso modo infatti se vi ricordate la puntata che abbiamo fatto qualche tempo fa sulla radiologia sulle tecniche appunto di RX TAC eccetera abbiamo parlato di diversi tessuti specialmente in modo relativo ai rischi di queste tecniche per esempio sui bambini che hanno dei tessuti particolari questo è diciamo un po' lo stesso discorso infatti abbiamo tessuti stabili dei tessuti labili e dei tessuti perenni che si riproducono in maniera diversa infatti i tessuti perenni contenenti quindi cellule perenni contengono appunto cellule che non si riproducono o meglio si riproducono pochissimo e quindi questo fattore dei telomeri è molto meno diciamo implicato rispetto all'invecchiamento un esempio sono le cellule del sistema nervoso i neuroni non sono cellule che si riproducono molto spesso quindi abbiamo durante l'invecchiamento una perdita di neuroni che non è come dire direttamente proporzionale all'età che stiamo percorrendo e soprattutto non è direttamente proporzionale la perdita del diciamo delle capacità cognitive con il numero di cellule che stiamo perdendo tant'è vero che sono stati fatti numerosi studi per esempio sui malati di alzheimer e si è visto che le persone molto colte o comunque abituate a usare il cervello magari che che ne so leggono molto piuttosto che sono persone attive che hanno tanti hobby che fanno tante cose diciamo questo è un fattore di protezione da tutto quel tipo di malattie che possono essere appunto le malattie neurodegenerative e appunto l'invecchiamento non è direttamente anche in questo caso proporzionale al al numero di cellule perse per quanto riguarda i tessuti labili invece abbiamo una riduzione del numero di cellule che è sostanzialmente più possiamo dire più direttamente proporzionale al numero di cellule che perdiamo e abbiamo anche una perdita del volume di tessuto e in questo caso abbiamo cellule che si riproducono abbastanza un esempio sono le cellule muscolari piuttosto che le cellule epiteliali quindi della nostra pelle o dei nostri vasi o di tutti quei tessuti che contengono appunto un tessuto epiteliale questo tipo di cellule si è scoperto avere un numero massimo di replicazioni possibili questo numero è detto appunto numero di iflick scusate bevo un secondo ci sono il numero di iflick è appunto quel numero di cicli cellulari al quale arriva una cellula e dopo il quale si attiva sostanzialmente tutto un sistema di morte programmata della cellula che è detta apoptosi anche dell'apoptosi mi sembra che abbiamo già parlato in altre puntate quindi le cellule assumono un fenotipo che è detto di senescenza mitotica quindi diventano più grandi iniziano ad avere un accumulo per esempio i tessuti con tante di queste cellule inizia ad avere un accumulo di tessuto connettivo che per esempio può andare a influire sulla sullo scambio di di materiale energetico di di nutritivo delle cellule per esempio quando si accumulano attorno ai vasi e quindi questo porta a un processo di ischemia ovvero di riduzione anche dell'ossigeno che arriva a quel tessuto e quindi il tessuto va sostanzialmente a perdere le sue capacità semplicemente perché muore o diventa sofferente quindi arriviamo al dunque dei telomeri abbiamo detto che i telomeri sono quella parte del cromosoma che serve a proteggere e che si accorcia pian piano man mano che andiamo avanti con diciamo con con le mitosi quindi con i cicli cellulari della cellula per arrivare alla senescenza mitotica quando appunto il telomero diventa talmente corto che non è più in grado di ripiegarsi su se stesso e quindi in questo modo viene non viene trascritto però viene possiamo dire attivato e a sua volta va ad attivare numerosi altri processi che portano a una sorta di processo infiammatorio che poi a sua volta porta quindi al danneggiamento del tessuto e pian piano in questo modo noi invecchiamo quindi le nostre cellule invecchiano e questo macroscopicamente si vede anche a livello dei nostri organi che invecchiano e quindi perdono funzionalità anche qui come detto prima non tutti gli organi perdono allo stesso modo la loro funzionalità per esempio il fegato è un organo con un'altissima capacità rigenerativa e e questo porta al fatto che anche invecchiaia è un tessuto diciamo un organo che funziona abbastanza bene viceversa il rene per esempio è un organo che non si riproduce molto bene e quindi invecchia in modo molto più marcato le sue funzionalità vengono perse molto prima rispetto per esempio al fegato la telomerasi è diciamo è stata una scoperta fondamentale perché io adesso ve ne sto parlando come qualcosa di banale che la medicina conosce da sempre ma non è così o meglio i telomeri sono stati scoperti quando è stato sequenziato chiaramente tutto il genoma umano adesso non ricordo esattamente la data poi magari ve la cerco su google però nel 2009 c'è stata una scoperta che ha fatto diciamo esplodere il cervello di tutti quelli che fanno parte della comunità scientifica perché è stato scoperto che c'è un enzima che regola questi telomeri questo enzima chiamato chiaramente telomerasi è un enzima fondamentale perché per svariati motivi innanzitutto perché è il principale regolatore dell'invecchiamento e quindi stiamo cercando di studiare come funziona e avendo possiamo dire la capacità di controllare questo enzima noi saremo potenzialmente in grado di vivere per sempre perché le nostre cellule non non invecchierebbero semplicemente chiaramente non è che saremmo in grado di vivere per sempre perché l'invecchiamento non è soltanto dato dai telomeri ma ci sono tutta una serie di scusate tutta una serie di componenti che portano all'invecchiamento per esempio che ne so il raggio vide il sole invecchiano la pelle perché creano dei danni diretti siamo comunque soggetti alle malattie siamo soggetti alle intemperie siamo soggetti agli incidenti però chiaramente se uno diciamo vive nella grotta senza subire danneggiamenti esterni invecchierà comunque perché appunto c'è questa questione dei telomeri e quindi in questo senso potremmo diventare eternamente giovani possiamo dire in un certo senso quindi premio nobel del 2009 l'abbiamo detto è una trascrittasi inversa anche questa è stata una scoperta fondamentale perché delle trascrittasi inverse abbiamo parlato in altre puntate sono se un dogma della biologia è stato fino a poco tempo fa che da un DNA produciamo un RNA e da quell'RNA produciamo una proteina sempre e solo in questo verso abbiamo scoperto tramite le trascrittasi inverse che questo non era più un dogma che non era vero ed è stato studiato in modo approfondito poi per capire come funzionava l'AIDS che è un punto un virus a RNA e quindi come era possibile che da quel RNA il virus fosse in grado di produrre un DNA se il dogma prevedeva un senso solo di questa striscia non era possibile quindi questo dogma è stato superato e anche le telomerasi sono delle trascrittasi inverse trascrittasi inverse che servono appunto a allungare il telomero allungare il telomero vuol dire sostanzialmente dare la possibilità a quella cellula di riprodursi un tot di volte in più e a tal proposito sono state scoperte delle diciamo sono state scoperte si stanno facendo degli studi uno studio importante avvenuto nel 2016 se non sbaglio sì nel 2016 perché mi stavo confondendo con il 2006 ma se le telomere sono state scoperte nel 2009 non è possibile quindi nel 2016 sono state scoperte una serie di integratori e di fattori che promuovono l'attività di queste telomerasi e quindi sostanzialmente si è fatto uno studio con diciamo un trial con delle persone che hanno preso regolarmente un certo tipo di integratori rispetto a un altro gruppo che invece non prendeva nulla e si è visto appunto che sostanzialmente le cellule di quelli che prendevano gli integratori erano più giovani dopo dieci anni cioè era come se avessero acquistato dieci anni di vita mentre chi non prendeva niente appunto le loro cellule i loro telomeri avevano perso i giusti tratti che la natura ha previsto questa è una questione fondamentale senza che ve lo dica io capire sostanzialmente come funzionano e come regolare questo processo è incredibile possiamo anche perché diciamo che le telomerasi non sono solo implicate nell'invecchiamento ma sono implicate in tantissime malattie come vi dicevo prima l'alzheimer è una di queste quindi riuscire a capire come non far perdere le cellule a un soggetto malato che ha proprio diciamo la perdita di quelle cellule come base di malattia è fondamentale i telomeri poi sono anche implicati nei tumori quindi questione molto importante di cui parleremo giusto due secondi dopo perché fa parte di un'altra puntata che voglio fare quindi bevo un secondo e ci siamo ancora allora un'altra questione associata alla senescenza o meglio a questa questione dei telomeri è che il telomero quando si rompe quindi quando è troppo piccolo non funziona più e va a provocare la rottura del DNA diciamo che sono stati fatti degli studi a proposito di questa questione e un grosso 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 ostacolo che si è riscontrato è il fatto che esiste un marker in vitro che è stato riconosciuto come principale meccanismo effettore di questo danneggiamento che è me lo sono scritto è la SA beta galattosidasi dove SA sta per senescenza associato quindi una proteina associata alla senescenza questo è un marker fondamentale che viene riscontrato in vitro quindi in provetta quando noi studiamo qualcosa ma non viene riscontrato in vivo quindi nei soggetti vivi questo è un ostacolo fortissimo alla produzione di diciamo uno studio scientifico definitivo in tal proposito esisterà sicuramente un altro marker in vivo ma non sappiamo qual è e non riusciamo a trovarlo e quindi diciamo è anche da questo punto di vista che lo studio scientifico si sta sostanzialmente muovendo perché è importante questo marker? perché va a produrre una sorta di infiammazione questa infiammazione come abbiamo visto già in altre puntate è una delle anzi forse è il principale motivo per il quale si creano i danni ai tessuti quindi riuscire a bloccare questo meccanismo anche questo potrebbe andare a impattare sulla qualità delle cure che possiamo impartire a soggetti che appunto stanno subendo una perdita importante di cellule oltre a questo oltre all'infiammazione si ha l'attivazione di tutta una serie di meccanismi che vanno a produrre per esempio gli ages dove age non sta per età ma sono gli advanced glycation end products che anche loro contribuiscono a creare dei danni al tessuto danni al tessuto che poi chiaramente si esprimono tramite un altro gruppo di recettori che abbiamo ormai credo imparato a conoscere che sono i PRR i Path Recognition Receptors che vanno poi ad attivare il sistema immunitario che sostanzialmente si va a che va ad aggredire le cellule danneggiate quindi tutto questo porta al danneggiamento ad organo va bene l'abbiamo detto questo spiega per esempio anche la menopausa argomento di cui non voglio trattare troppo perché anche qui voglio fare una puntata a parte però perché c'è un'età in cui arriva la menopausa e arriva l'andropausa per l'uomo uno dei motivi è proprio questo questo diciamo meccanismo possiamo dire molecolare è soltanto uno dei effetti o meglio dei motivi per il quale invecchiamo infatti esistono una serie di hallmarks che sono sostanzialmente appunto una classificazione di tutti i motivi di cui potremmo parlare veramente per giorni non sto ad ammorbarvi oltre ma volevo dirvi soltanto altre due cosine altre due cosine che ci sono varie teorie a proposito dell'invecchiamento le principali sono due e una è l'usura somatica che sostanzialmente prevede il fatto che un corpo come se fosse un oggetto esposto diciamo alle intemperie quindi a tutto quello che avviene al di fuori del corpo stesso pian piano si danneggia questo danneggiamento porterebbe all'invecchiamento l'altra è appunto la programmazione genetica di cui sostanzialmente abbiamo parlato fino adesso quindi dell'accorciamento dei telomeri e ci sono teorie per il quale questo accorciamento dei telomeri non è diciamo una conseguenza di un danno o qualcosa di passivo ma è proprio programmato nel nostro DNA per essere così e quindi siamo sostanzialmente geneticamente programmati per avere una data di scadenza in realtà tutti gli studi che si stanno compiendo in questo senso dimostrano che sia una teoria sia l'altra siano diciamo vere siano appunto corrette e che probabilmente la verità sta nel mezzo no? Perché vi ho parlato di invecchiamento? Perché anzi vi faccio un'altra domanda vi faccio un'altra domanda è secondo voi esiste in natura un essere vivente immortale? bevo un secondo mentre mi rispondete in chat mi raccomando rispondete e poi vi do la risposta allora risposta sì esistono degli esseri viventi immortali in un certo senso principalmente sono due uno è un verme il detto verme piatto che è anche uno dei principali diciamo delle principali cavie di studio a proposito delle telomerasi perché appunto hanno una particolarità questi vermi sono chiaramente soggetti alle malattie a tutto quello che concerne la vita al di fuori di una bolla di cristallo quindi possono chiaramente morire quindi in questo senso non sono immortali però sono geneticamente immortali nel senso che le loro telomerasi sono così diciamo efficienti e funzionali che i loro telomeri non si accorciano e quindi le loro cellule non invecchiano di conseguenza se uno di questi vermi non subisce un fattore esterno che lo uccide questi questi vermetti sostanzialmente campano in eterno hanno l'elisir di lunga vita hanno l'eterna giovinezza poi abbiamo un altro animale fantastico non so in realtà se si può dire che è un animale comunque è una medusa che invece è sostanzialmente immortale questa medusa che si chiama me lo sono scritto Turritopsis Nutricula un nome molto facile da leggere quando si è molto stanco questa medusa fantastica cosa fa è in grado di tornare sostanzialmente allo stato embrionale di polipo credo che si dica per le meduse quando è sufficientemente anziana o quando subisce un danno esterno forma questa specie di polipetto che in realtà non ha la forma di un polipo se andate su google lo potete trovare è una sorta di massa in forme fatto sta che questo polipo poi torna a generare nuovamente la 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 medusa adulta e quindi è come se arrivato a un certo punto di vecchiaia o di danneggiamento possa tornare indietro e sostanzialmente rinascere e quindi è praticamente l'unico animale immortale possiamo dire che abbiamo scoperto in un momento in natura e su cui chiaramente stiamo studiando a tuono tutti i processi per riuscire poi a riprodurli nell'uomo però non con lo scopo di diventare immortali nel senso che la ricerca dell'immortalità o dell'eterna giovinezza non è qualcosa che la medicina si è mai posta anche perché ci sono delle implicazioni etiche relative a questo a questo ambito abbastanza importanti questioni etiche che si sono diciamo sono sollevate specialmente quando abbiamo fatto per esempio il referendum sulle cellule staminali ormai più di qualche anno fa quindi perché lo stiamo studiando lo stiamo studiando perché e diciamo vado a concludere la puntata e a dirvi quale sarà la prossima puntata lo stiamo studiando perché si ha un certo tipo di immortalizzazione delle cellule umane dove nei tumori quindi per studiare i tumori e per capire perché vengono e soprattutto come curarli capire questo meccanismo di immortalizzazione delle cellule è fondamentale quindi è diciamo per questo che stiamo studiando questo genere di meccanismi io ragazzi concluderei qui la puntata perché sono un po' cotto e soprattutto non vedo messaggi da parte vostra mi sa che anche voi siete un po' cotti spero che la puntata vi sia piaciuta che vi abbia interessato se avete delle domande non esitate a scrivermi in chat vi ricordo che potete seguirci su instagram su telegram trovate tutti i nostri link sul nostro sito vi ricordo che potete iscrivervi a twitch e fare l'abbonamento in modo da darci un sostegno e riuscire a portare avanti il progetto di dipen per chi avesse amazon prime chiaramente questo abbonamento può essere anche gratuito andate a scoprire su twitch come e niente ragazzi io vi lascio vi saluto questa sera ci sarà una puntata di dipen crimini quindi ci diciamo ci risentiamo e vi aggiornerò poi sulla questione dell'anniversario e di cosa faremo quindi ragazzi vi saluto davvero per questa volta e ci sentiamo nel prossimo episodio di dipenscienza ciao